Ciao amici! Oggi faremo gli hamburger di piselli. Ci serviranno olio, piselli, patate, acqua, pangrattato, formaggio, cipolla, sale, menta, uovo. Iniziamo! Prima di tutto cuociamo i piselli e poi diamo le patate. Mettete in un pentolino un po' di olio e fate soffriggere la cipolla e mescolate. Poi ci aggiungete i piselli con un po' di sale e acqua e fate cuocere. E quando le patate sono bollite ovviamente le spucciamo. E adesso schiacciamo le patate. Va due amici! Ce l'ho fatta! Wiii! Adesso aggiungiamo formaggio. Ottimo. Se può mettere. Uovo. Menta. E sale. E mescoliamo. Aggiungiamo anche i piselli. E il pangrattato. E adesso mescoliamo. Ah, bello rilassato. E quando avete impastato bene, formate gli hamburger. Un po' rotondi. Così. E li mettete nella teglia. Li mettete nella teglia se li volete fare al forno. Se no, in padella. Adesso ci mettete sopra un pochino di olio. E adesso in forno. E adesso gli hamburger e con i piselli. Adesso li assaggio. Sono buonissimi. Bruciano un po' perché sono appena sfornati. Però sono davvero deliziosi. Fateli anche voi perché sono davvero buoni. Michi, vieni ad assaggiare. Buono. Basta in canna per voi. Com'è Michi? Com'è Michi? Un bacio? Un bacino? Me la guancia. Me la guancia. Stesso sapeva, ma anche. Grazie. No, sono davvero deliziosi. Sono davvero buoni. Buoni. Guancia, guancia. Io vorrei che sono giganti questi. Vorrei che sono giganti per il cielo. Ciao, ciao. Sono buonissimi. Mi raccomando, fatevi. Voglio vedere la vostra foto. Anche io.